amici carissimi di auto occasioni un caro saluto a tutti voi ma se mi trovate in un mondo di vetture e mi trovate in compagnia di fabrizio dove potrò mai essere diciamo che è difficile sbagliarsi sono naturalmente dalla regina delle concessionarie anche la regina del risparmio e sono da queen car ciao fabri ciao a tutti ben ritrovati perché iniziamo con 2023 stratosferico incentivi di rottamazione statale sono ripartiti gli incentivi di rottamazione statale fino a 10.000 euro per il tuo usato che vale zero ecco perché mi piace così tanto venire da queen car fabri perché ci sono sempre notizie come dici tu stratosferiche perché intanto appunto come dicevi ci sono gli incentivi ma soprattutto abbiamo il prodotto e abbiamo un prodotto che si può portare a casa in pochissimi giorni ce lo confermi fabrizio sì abbiamo 540 auto vetture in pronta consegna quindi in 3-4 giorni consegniamo la vostra auto scegliete la vostra motorizzazione tutte in pronta consegna ritiri oggi e paghi a giugno prima di partire per le vacanze tavoloso e quindi a questo punto ci vuole davvero far brillare gli occhi fabri iniziamo subito tutta la gamma panda in pronta consegna 6.000 euro di incentivo rottamazione statale pensate panda tua da 9.950 euro per la versione hybrid e abbiamo anche la versione gpl a 10.900 euro pensate tua da 99 euro al mese 6.000 euro di incentivo di rottamazione statale parliamo della 500.000 hybrid attenzione al prezzo 12.900 euro può essere tua con 129 euro al mese tutta la gamma lancia y in pronta consegna con l'incentivo di rottamazione 10.900 euro può essere tua a partire da 109 euro al mese tutta la gamma 500 l in pronta consegna allestimento cross versione full opsora a 1.495 cavalli può essere tua con 19.900 euro a partire da 199 euro al mese e abbiamo anche in pronta consegna la versione gpl vi aspettiamo tutta la gamma 500 x benzina diesel in pronta consegna abbiamo anche in pronta consegna la nuova motorizzazione 1500 turbo ibrido attenzione al prezzo a partire da 169 euro al mese tutta la gamma 500 dolce vita in pronta consegna edizione particolare pelle bianco e nero full optional con soli 159 euro al mese tutta la gamma jeep compass in pronta consegna 1.600 multijet allestimento limite d'attenzione al prezzo con 349 euro al mese tutta la gamma alfa stelvio in pronta consegna tutte vetture aziendali diversi colori 190 cavalli 210 cavalli a partire da 299 euro al mese non solo vetture nuove o chilometro zero ma addirittura vetture aziendali il prezzo 3008 diversi colori diverse motorizzazioni benzina e diesel a partire da 149 euro al mese tutta la gamma nissan casca in pronta consegna 1.500 turbo diesel o 1.600 a partire da 199 euro al mese sempre vetture aziendali parliamo di hyundai tucson a 299 euro al mese vettura di un anno con meno di 20.000 chilometri oppure allestimento volkswagen t cross in pronta consegna allestimento full optional e benzina con 269 euro al mese tutta la gamma volkswagen in pronta consegna t rock benzina con 249 euro al mese jeep compass 4x plug-in hybrid esenzione bollo a partire da 249 euro al mese 500x cambio automatico 1.300 attenzione prezzo con 199 euro al mese versione full optional ultimi pezzi disponibili cambio automatico audi a3 1.600 cambio automatico full optional allestimento business con 249 euro al mese vetture aziendali jeep renegade allestimento benzina o diesel a partire da 199 euro al mese fiat padda 1.200 lounge con meno di 20.000 chilometri attenzione al prezzo 129 euro al mese parliamo di mitsubishi space star nuova motorizzazione 1.200 benzina 22 chilometri con litro di benzina con l'incentivo di rottamazione 9.950 euro tua da 99 euro al mese 5 anni garanzia pronta consegna immediata vi aspettiamo tutta la gamma fiat tipo in pronta consegna benzina diesel attenzione prezzo vetture aziendali con soli 149 euro al mese avete capito bene non un'autovettura un'utilitaria una fiat tipo station wagon o 5 porte da 149 euro al mese sempre pronta consegna Toyota Yaris 199 euro al mese Peugeot 208 benzina con soli 149 euro al mese vi abbiamo promesso di farvi brillare gli occhi e siamo stati naturalmente di parola ma qui dalla regina delle concessionarie è davvero facile pensate che adesso tra l'altro potrete anche scegliere la concessionaria a voi più comoda perché queen car si è fatto in quattro è vero fabri si ricordiamo i quattro indirizzi torino in corso grossetto 18 dove stiamo girando pianezza via susa 52 a moncaglieri novità assoluta nuovo showroom in corso savona numero 10 e a car magnola in via poirino 6 fantastico miliardi di ragioni veramente per venire da queen car vi aspettiamo nel frattempo vi mandiamo un saluto carissimo da parte di auto occasioni queen car fabrizio e federica grazie a tutti Grazie a tutti.